a tu per tu ospita quest'oggi nei nostri studi donata borgonovo re consigliera provinciale del partito democratico grazie di essere con grazie a voi allora tiene banca un pochino da qualche mese la questione passorolle vale a dire il progetto di lorenzo dell'addio titolare della sportiva che proponeva per il rolle praticamente lo smantellamento degli impianti e provare a fare un turismo soft provare a certificare un'accoglienza diversa anticipando i tempi creando un laboratorio un laboratorio appunto in un pezzo del trentino per vedere cosa succederà fa qualche anno voi del pd e lei in particolare cosa ne pensate ma noi del pd la pensiamo fortunatamente tutti allo stesso modo è stato infatti fatto un comunicato stampa un paio di giorni fa per così intanto dichiarare il nostro dispiacere ma anche provare a rilanciare dopo la apparente chiusura di questa ipotesi visto proprio lo stracismo molto pesante da parte di alcuni vertici provinciali e naturalmente la grande diffidenza da parte di alcune categorie economiche no in particolare gli impiantisti allora in realtà la proposta di dell'addio è una proposta che non anticipa nulla nel senso che ci sono territori a noi molto vicini penso proprio un'esperienza in carinzia che hanno già provveduto diversi anni fa a smantellare gli impianti per i quali ormai l'innevamento naturale non bastava più visto che si sono susseguiti inverni senza neve l'innevamento artificiale non era desiderato né dalla popolazione né dalle autorità consapevoli del quanto sia preziosa l'acqua per altri utilizzi e quindi su in questa particolare realtà si è proceduto a smantellare le cinque sei eh traschi lift e seggiovie presenti a proprio rinaturalizzare rinaturalizzare la montagna si tratta del monte Dobrac quindi credo sia al confine anche con la Slovenia e a eh progettare una proposta turistica completamente diversa non più basata sullo sci da discesa ma basata su una molteplicità di offerte quello che eh il progetto di Della Dio si proponeva di fare all'interno di un'area non è tutto il passorolle quindi non tutti gli impianti del passorolle valeva la pena di provare a cipicchio se valeva la pena anche perché vediamo in giro per l'Italia là dove ci sono realtà montane che offrono eh una modalità diversa no al turismo come l'ha chiamato lei al turismo dolce che ama camminare contemplare ciaspolare magari anche fare sci alpinismo senza utilizzare negli impianti di risalita nelle piste da discesa ma semplicemente entrando in rapporto con la montagna libera diciamo da una presenza ingombrante dell'uomo ecco forse in quell'angolo di Trentino valeva la pena provarci provarci allora vice cambiamo totalmente argomento parliamo di welfare state il welfare per gli anziani ne discuterete tra qualche giorno un welfare che si preannuncia sempre più desideroso meglio costretto a questa sinergia pubblico privato visto che i soldi pubblici sono sempre meno cosa ne pensate sì allora la sinergia pubblico privato è già credo pubblico famiglie ecco ecco forse così eh perché certamente la presenza di più soggetti penso alle cooperative penso alle associazioni che già si muovono nella dimensione dell'offerta dei servizi è già una presenza forte eh quello che adesso si cerca di costruire con questa proposta che arriverà in aula tra dieci giorni è un disegno che consenta in futuro visto il progressivo allungarsi della vita e non necessariamente allungarsi della vita in buona salute quindi qui bisognerebbe tornare tornare iniziare ad investire sul piano salute ma comunque quello è un altro tema ehm quello che si vuole fare è provare a sostenere le famiglie per garantire una più lunga domiciliarietà delle persone che è anche una garanzia di qualità della vita non perché le strutture non funzionino bene ma perché siamo tutti consapevoli che si arriva all'interno di una struttura quelle che noi chiamiamo affettuosamente casa di riposo quando la dimensione di autonomia della persona è sempre più compromessa e quindi c'è bisogno di un'assistenza di qualità alta e complessa spesso fortemente sanitaria oltre che sociale quindi supportare le famiglie che naturalmente sono famiglie sempre più fragili a volte c'è un solo figlio che a sua volta ha la sua famiglia i suoi problemi diventa fondamentale poter tenere e garantire non tenere una brutta parola c'è un brutto verbo ma garantire agli anziani la possibilità di restare nella loro casa arricchendo però di servizi questa loro permanenza è la sfida del futuro sentiamo questa domanda ma è possibile continuare a fare politica sul tema della sicurezza su un tema così delicato ecco il tema della sicurezza è un tema si parla di percezione della sicurezza però è vero che ormai noi dell'informazione ci occupiamo quotidianamente di truffe di vandalismi caso della chiusura della chiesa la basilica di santa maria maggiore dal mezzogiorno in poi impone una riflessione e anche delle azioni ma guardi io credo che ci siano diversi piani credo che l'ascoltatore che tra l'altro è un volto noto a 30 è un ristoratore credo che l'ascoltatore abbia messo il dito nel tema fare politica sui temi della sicurezza non solo si può ma è necessario bisogna però intendersi sul significato di sicurezza non si tratta di militarizzare una città non si tratta di puntare sull'ordine pubblico che come dire l'ultima medicina per una malattia che invece ha bisogno di essere presa la malattia è già arrivata l'ultimo stadio secondo lei noi non abbiamo mai idea di qual è proprio il fondo il fondo del pozzo io credo che ci sia una dimensione educativa da recuperare no nei confronti delle persone dei rapporti tra le persone questa attitudine come dire al vandalismo forse parte proprio dall'idea che non percepiamo come nostra la bellezza lei è favorevole insegnare l'educazione civica a scuola mamma mia sono sono decenni che si parla o di rintrodurla o di rafforzarla perché non si fa rilanciarla secondo me si fa nelle scuole si fa il problema è che serve una continuità e soprattutto serve armonia se tu hai no giovani generazioni che vengono accompagnate a scuola con una percezione chiara di qual è il bene comune e come ci si rapporta col bene comune e poi questi stessi bimbi o ragazzi si trovano di fronte ad esempi magari vicini non dico nella stessa famiglia mi auguro di no ma insomma nel gruppo di pari oppure nelle persone che a volte alla televisione o su internet usano linguaggi di grande aggressività volgarità è come se fossimo un po' dibattuti all'interno di un sistema che non è armonioso allora bisogna capire se l'educazione la crescita culturale il sostegno all'interno di una comunità il prendersi cura delle nostre cose diventa più forte di questa tendenza quasi centrifuga no allora lei mi fa dire che è finita l'epoca siamo tutti buoni e i non buoni potrebbero diventare buoni ci sono ci sono i cattivi maestri in questo caso internet sotto certi aspetti insomma internet è un luogo che amplifica moltiplica no dilata cose che un tempo magari si scrivevano su un muro e le vedeva solo chi passava da quella via lì e guardava quel muro lì adesso c'è un effetto ridondanza che è davvero da un lato affascinante perché si possono trasmettere anche molte cose positive dall'altro angustia perché amplifica anche la stupidità amplifica la stupidità certamente noi la ringraziamo ringraziamo donata borgo navorei consigliera provinciale del pd e ci vediamo con un altro ospite sempre a tu per tu ciao